Cosa ha detto questa partita amichevole in famiglia Italia Azur contro Italia Bianca? Quando ho raccolto le due squadre alla fine ho detto che ci sono tante cose, tante indicazioni su cui lavorare, alcune anche molto positive. Una buona qualità in alcuni fondamentali, in ricezione, a muro direi entrambe le squadre. Chiaramente uno dei nostri punti di forza che è l'attacco in questo momento a causa della pesantezza sia delle gambe che delle braccia non è ancora un fondamentale brillante come può essere per noi. Sarebbe preoccupante se lo fosse ora, stiamo lavorando per essere pronti a fine settembre. Poi sono contento perché alla fine è un collegiale molto lungo, siamo stati qua dieci giorni, ragazzi hanno interpretato bene questa partita come doveva essere. Questo è un buon segnale, vuol dire che stiamo attenti anche a usare ogni momento della nostra preparazione per migliorare. Queste partite, questa penso anche a quelle con la Slovacchia di tra qualche giorno, servono soprattutto per rimettere un po' di ritmo partita nelle gambe? Soprattutto per lei per sperimentare qualcosa di nuovo, anche per provare su qualche nuova soluzione? Sì, poi soprattutto servono per dare continuità agli obiettivi che stiamo allenando in allenamento durante la settimana, durante il collegiale. Quindi oggi le squadre hanno dei compiti abbastanza specifici che sono riusciti a fare abbastanza bene. Chiaramente abbiamo anche bisogno poi di cambiare i volti dalla parte opposta della rete. Un conto è quando si lavora tanto sempre con gli stessi 14-15 atleti, un conto è quando si va in campo e dall'altra parte della rete c'è una squadra nazionale. Insomma, quindi adesso ci serve anche questo. Entriamo in questa fase che inauguriamo, anzi in realtà avrebbe dovuto essere inaugurata, con la nostra trasferta in Russia che è saltata per le ragioni che sapete, però alla fine settimana del prossimo collegiale incontreremo la Slovacchia con due incontri ufficiali. Poi ci sarà questa fase precedente all'europeo in Germania, quindi arriveremo con quattro partite contro due squadre che ovviamente, insomma, ribadisco, quando poi si arriva a giocare quelle partite a prescindere dal momento uno vuole far bene. Entriamo sicuramente dal prossimo collegiale in una fase che va più verso l'aspetto tecnico e agonistico anche dal punto di vista delle partite. Hai parlato dell'attacco, forse anche la battuta oggi è stata tirata tantissimo da entrambe le parti, con qualche errorino forse di troppo, però si sta un po' recuperando quel discorso battuta che in qualche tempo fa lei diceva essere molto importante recuperare. Sì, ci siamo dati un equilibrio specifico anche con i turni delle rotazioni che abbiamo a disposizione, sicuramente come per l'attacco in battuta quando salti anche solo 5-6 cm in meno fai più fatica, quindi questo, ripeto, ci sta in questa fase della preparazione, però ripeto, ci siamo dati un equilibrio, ci siamo dati alcuni compiti in alcune rotazioni che anche questa sera hanno funzionato molto bene, non sono preoccupato, ripeto, del numero degli errori e dell'aspetto della brillantezza, perché, ripeto, va, come dire, è previsto che sia così, sarebbe preoccupante se fosse il contrario e avremmo sbagliato qualcosa se fosse il contrario. Quindi state rispettando in pieno la tabella di marcia che lei ha in testa per arrivare ai campionati europei? Sì, non solo la stiamo rispettando in pieno, ma siamo anche fortunati e bravi nel riuscire a non aver cambiato, a parte questo imprevisto legato alla Russia, ma non aver cambiato nulla della programmazione che avevamo, semplicemente perché tutti i giocatori sono stati in grado di poter fare tutto, con difficoltà, con stanchezza, con pesantezza, quella di cui parlavamo prima, però non abbiamo avuto, tocco legno dicendolo, ma non abbiamo avuto nessun intoppo dal punto di vista fisico, quindi siamo riusciti a portare avanti il lavoro che volevamo fare, e questo nelle fasi di preparazioni così pesanti, così lunghe, è sempre una bella cosa, perché vuol dire che tutto sta andando per il verso giusto. Secondo lei da 0 a 100 indicativamente a che punto è questa Italia? A 100 è il top della condizione che lei ha in testa da raggiungere per l'europeo, più o meno a che punto sia a metà strada, prima o dopo? Sì, siamo esattamente a metà strada nel percorso di avvicinamento all'europeo e secondo me siamo a metà strada anche nella condizione fisica e anche nel miglioramento di alcuni aspetti del gioco che adesso, ripeto, diventeranno obiettivi sempre più specifici e sempre più mirati e da mettere in campo in situazioni di allenamento e di confronto di partite con squadre avversari. Siamo, difficile trovare la percentuale, però procediamo con la traccia che ci eravamo dati e procediamo sapendo che c'è ancora un bel margine sia fisico che tecnico da migliorare.